Da villa confiscata alla criminalità organizzata, a villaggio con spazi finalizzati alla riabilitazione, formazione e inclusione di persone con disabilità. Si prepara finalmente per una nuova vita l'immobile di via Ferravilla a Desio, acquistato dal comune nel 2014 e ora pronto per diventare il nuovo Desio Inclusive Village, gestito dall'Associazione Italiana Assistenza Spastici di Monza, un'area di circa 2.700 metri quadrati con due fabbricati, andate in concessione ventennale ad Aias, creando un nuovo centro inclusivo in continuità con l'attività che l'Associazione svolge da ormai 50 anni in Brianza. Noi veniamo dall'esperienza di Monza dove abbiamo 50.000 prestazioni riabilitative accreditate. Aprire a Desio vuol dire intanto alleggerire un attimino Monza ma soprattutto portare una realtà riabilitativa direttamente su Desio. Dopodiché villaggio inclusivo, perché villaggio perché? Perché oltre all'attività riabilitativa avremo un edificio dove verrà fatta attività di formazione professionale e addestramento al lavoro con dei laboratori specifici e soprattutto tutti e due le strutture con annessa la parte sportiva. Un progetto da un milione di euro di investimento con i lavori che partiranno a breve per aprire agli inizi del 2024 la prima struttura destinata alla riabilitazione. Mi ha particolarmente colpito oltre all'aspetto sportivo che già comunque è stato sperimentato da tanti anni, ormai è diventata una progettualità da cui non si può prescindere a mio avviso in un aspetto riabilitativo come questo contesto. Ma soprattutto aspetti innovativi quali lo SFA, quindi la propensione al cercare di mettere nel mondo lavorativo queste persone anche ritenute senza possibilità residue lavorative, poi anche ad esempio l'orto e il golf sono state ormai sperimentazioni anche abbastanza audaci, soprattutto il golf da parte di IAS che quindi ormai viene riproposto in quanto secondo me è una realtà abbastanza consolidata. Orgoglioso il sindaco di Desio Simone Gargiulo che potrà assistere al primo progetto di riqualificazione, per di più con finalità di inclusione sociale, di un bene confiscato alle mafie. Assolutamente una soddisfazione grandissima per me e per tutta la nostra amministrazione perché è il primo bene confiscato alla mafia che riusciamo a riqualificare, riassegnare, ridonare alla società, oltretutto con un progetto fantastico di inclusione sociale e sportiva promosso da IAS che è questa associazione davvero che fa del volontariato in un modo incredibile inclusivo e un bene di utilità assoluta.